Pila BH0, il disincrostante, acido, forte per le pulizie del dopocantiere. Quando fila d'etherdeck non è sufficiente arriva in soccorso fila BH0. Ovviamente per tutte le superfici non aggredibili dagli acidi, quindi no sulle graniglie, no sulle cementine. Anche lui va diluito in 10 litri di acqua, un litro anche in 5 litri di acqua. Dipende dal tipo di sporco che dovremo andare a pulire. Possiamo pulire anche le salinità che si presentano sui mattoni, sul cotto e tutto comunque lo sporco cementizio. Pila BH0 nel mio magazzino non manca mai e con me quando vado a predisporre le superfici per il trattamento è sempre nel mio mezzo di trasporto insieme alla monospazzola. Perché per le pavimentazioni disco verde oppure le setole in nylon resistenti, addirittura avete anche il disco nero. Fila BH0 una volta diluito va steso anche qui, occhialini, guanti in lattice, pennello in setole, in nylon, magari anche una mascherina, non guasta mai. Lasciato agire qualche minuto e poi via con acqua per risciacquare, lavare, aspira liquidi e risciacquare, aspira liquidi per rimuovere tutto quello che potrebbe rimanere nella superficie. Anche lui, come anche Fila Detardec che ho già spiegato nel video di Fita Detardec, non deve restare ad agire. Quindi il risciacquo è fondamentale. Meglio risciacquare una volta in più che rischiare poi che faccia azione e ci possa compromettere la superficie anche durante il trattamento. Per ulteriori informazioni ti lascio la scheda tecnica sempre in descrizione, altri link molto interessanti e per qualsiasi dubbio o domanda scrivi nei commenti. Un caro saluto da Carlos, il tempo abitato. Ciao!